Chi pensa che le liti nobiliari siano cosa da poco si sbaglia di grosso. Pochi giorni fa si è infatti scatenato il putiferio in casa Savoia e ancora una volta il motivo del contendere è il titolo nobiliare. Per far riscoppiare la nosa querelle è bastata la nascita di un nuovo membro della famiglia a cui è stato dato il nome di Umberto. Quel nome infatti viene solitamente attribuito all'erede al trono e anche se la monarchia in Italia è da ormai molti anni solo un ricordo Vittorio Emanuele ha reagito aspramente esigendo in esclusiva per suo figlio Emanuele Filiberto il titolo di principe di Piemonte. Per chiarirci le idee abbiamo incontrato per voi Sargio Boschiero segretario nazionale dell'Unione Monarchica Italiana la più antica e numerosa organizzazione monarchica presente sul territorio nazionale. La nuova lite tra i Savoia per l'erede al trono della Casa Reale Italiana è stata definita da Mass Media come un pasticcio reale. Perché Vittorio Emanuele non sarebbe l'erede al trono? Vittorio Emanuele non sarebbe l'erede al trono e non è l'erede al trono. Tolgo io il condizionale. Non tanto perché abbia disubbidito e soltanto perché abbia disubbidito al padre contraendo quel matrimonio al quale il re era contrario per tutta una serie di ragioni non necessariamente per il problema se la moglie fosse o non fosse di sangue nobile. Vittorio Emanuele non è più l'erede perché per annullare gli effetti che lo escludevano dalla successione di questo veto del re è stato consigliato di preparare, di firmare un documento nel quale lui deponeva suo padre dallo status di re anche se non regnante in quel momento. Questo è stato ovviamente portato a conoscenza del re Umberto. Il reato commesso è molto grave. Anticamente l'avrebbero definito un reato di fellonia cioè di alto tradimento verso il sovrano per futili abietti motivi. Oggi basta la definizione di un tradimento nei confronti del re per cui non ci sono i titoli, non ci sarebbero i titoli morali per succederli. Quelli che a noi comuni mortali possono sembrare motivi astratti hanno fatto scoppiare, come abbiamo visto, una vera e propria guerra per l'eredità del trono virtuale. Una guerra a colpi di carte bollate capace di far trimare i rami araldici.